Allarme video poker in Italia. Un terzo dei frequentatori abituali delle sale giochi è ludopatico. In prevalenza si tratta di maschi, stranieri, disoccupati e con un basso livello di istruzione. È quanto emerge da un'indagine curata da Matteo Temporin dell'Università Cattolica di Brescia, illustrata dal Codacons nel corso di una conferenza stampa a Roma. L'indagine è stata condotta su un campione di 300 giocatori, quindi spiega Temporin si tratta di un campione limitato, in 20 sale sparse su tutto il territorio nazionale. Dai risultati emerge che l'85% dei giocatori alla fine della giornata perde in media 40 euro su circa 300 partite giocate, mentre il restante 15% riesce a vincere circa 120 euro. Altro dato allarmante e significativo è che all'interno del 30% che presenta un profilo da giocatore d'azzardo patologico, nessuno si cura e la maggior parte presenta problemi di relazione.